buon viaggio ben trovati da firenze smart da mauro ciutini traffico rallentato sulla 11 viabilità esterna che non riceve tra il vivio a 11 firenze nord e firenze peretola in direzione di firenze code a tratti anche sulla firenze pisa livorno tra ginestra fiorentina e firenze scandici in direzione firenze rallentamenti traffico intenso sulla a1 tra incisa reggello e firenze sud anche qui in direzione firenze sulla 12 lavori personale su strada in entrambe le direzioni tra colle salvetti e rosignano marittimo veniamo ai treni a causa della presenza di persone strane lungo la linea tra firenze campomarte e firenze santa maria novella la linea è stata temporaneamente interrotta e riprende la circolazione gradualmente è tutto muoversi in toscana in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie grazie grazie